Mercoledì 15 giugno. Il candidato sindaco Raffaele Gentile ha convocato la stampa per presentare la sua squadra di assessori nell'eventualità della vittoria al ballottaggio del 19 giugno. Oggi pomeriggio abbiamo convocato questa conferenza stampa perché abbiamo ritenuto che fosse un atto di grande lealtà politica e di grande trasparenza consentire alla città la conoscenza diretta dei componenti della giunta comunale quindi della squadra di governo dell'esecutivo dove io Raffaele Gentile dovessi essere eletto domenica al turno di ballottaggio sindaco della città di Massafra. E quindi abbiamo ritenuto che al di là delle posizioni di strategia del momento che possono interessare la dinamica elettorale legata a un turno di ballottaggio fosse necessario comunicare in maniera trasparente, onesta, leale a tutti i cittadini massafresi nell'eventualità che io sia eletto sindaco della città di Massafra quale sarà la squadra degli assessori che mi accompagnerà nella avventura amministrativa ma soprattutto ritengo che sia necessario questo momento di conoscenza perché per dare attuazione a quel programma onesto, leale, coerente con il quale ci siamo proposti agli elettori e a tutta la cittadinanza va accompagnato da un momento di conoscenza di chi poi saranno gli esecutori e i decisori politici e quindi il ruolo fondamentale della giunta, degli assessori che accompagneranno il sindaco nell'attuazione del programma. Un programma chiaro, un programma soprattutto attuabile, coerente con le esigenze della città ma soprattutto io dico specifico perché non abbiamo scritto un programma di linee generali ma abbiamo presentato qualcosa che calza in maniera molto perfetta con le ansie, le aspettative, le richieste, la risoluzione di problematiche che interessano la nostra città. Quindi davvero procediamo a un atto di lealtà politica perché credo innanzitutto in questo principio, la trasparenza degli apparentamenti che abbiamo utilizzato per il secondo turno di ballottaggio e quindi la giunta di Fratelli d'Italia che è soprattutto un processo di ricomposizione del centrodestra, di un centrodestra che come sapete è stato un tantino diviso al primo turno e che oggi si riappropria di una parte e di una componente fondamentale, storica e tradizionale che fa parte appunto del lagone politico della nostra compagine. Io adesso procederò a presentare la squadra di cui ho valutato l'esperienza di alcuni che è un'esperienza importante, due di loro hanno già fatto parte della giunta comunale della nostra città in una precedente esperienza e sono due persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno civico, politico e soprattutto per dei caratteri di grande moralità e di grande responsabilità che hanno accompagnato il loro impegno e quindi passo subito a presentare qui accanto a me Antonio Cervino che è assessore uscente alla cultura e che sicuramente è designato nella nuova squadra di governo che propongo quest'oggi alla città di Massafra e poi Giancarla Zaccaro che è assessore uscente ma soprattutto in questa tornata elettorale è stata la donna più votata nella nostra città quindi un riconoscimento all'impegno ma soprattutto all'immagine di Giancarla, una donna impegnata in politica da qualche anno, giovane, che ha fatto esperienza ma che soprattutto sa quello che fa quindi davvero un momento importante perché ho scelto di riproporre nella squadra di governo due persone che si sono particolarmente distinte. Abbiamo in coalizione individuato l'avvocato Marilena Monaco che sarà una delle altre componenti femminili della nostra giunta municipale, il dottor Antonio Tramonte, medico chirurgo che io ho già designato come colui che sarà l'assessore delegato all'ambiente e alla salute. Tema al centro dell'agenda politica della città di Massafra ma soprattutto credo di aver individuato in questa personalità di grande spessore e di spiccata professionalità la figura giusta che potrà essere il delegato assolutamente coerente e necessario che oggi serve alla città di Massafra per affrontare insieme al sindaco dove sarò eletto le discussioni e le tematiche che riguardano appunto l'ambiente e la salute nella nostra città. Compare poi qui accanto a me, alla mia destra, la dottoressa Mina Castronovi. Credo una delle espressioni più belle della società civile che si sono distinte anche in epoche passate per l'impegno in tante articolazioni associative della nostra città ma soprattutto per la sua spiccata, profonda, articolata conoscenza delle tematiche che riguardano la fruizione del patrimonio storico e architettonico della nostra città. È soprattutto una di quelle ispiratrici che in anni precedenti poi a sinistra presento, dove ce ne sia bisogno, Giovanni Ventura, una persona molto attiva in tante dinamiche della nostra città ma soprattutto un esponente politico che ha già fatto un'esperienza essendo stato lui consigliere di maggioranza con risultati anche abbastanza incomiabili. E infine poi vi presento l'ultimo degli assessori designati, Giuseppe Maggiore, imprenditore, laureando in giurisprudenza, che è una persona di lunga militanza politica nelle fila di Fratelli d'Italia ma soprattutto uno di quei giovani che ne hanno fatto dell'impegno politico un motivo importante della propria vita e che da sempre sono stati propositivi affinché la politica e l'amministrazione possano essere un momento di crescita reale e qualcosa di autentico e di vero. Quindi dove dovessi risultare eletto sindaco della città di Massafra, Giuseppe Maggiore sarebbe l'assessore più giovane della nostra giunta ma soprattutto contribuisce a far sì che la giunta che ho appena designato e individuato per la città di Massafra, oltre a caratteri di spiccata competenza e professionalità, abbia davvero dei caratteri di rinnovamento.